Primaria PD. Schlein ribalta le previsioni e vince. Saremo un problema per Meloni, dice. La prima donna alla guida del Partito Democratico si aggiudica il 53,8% dei consensi contro il 46,2% di Bonaccini. L'ex vicepresidente dell'Emilia Romagna prende in largo, nelle grandi città e in tutto il centro nord, Bonaccini più gettonato nelle regioni del sud. Ai seggi si sono presentati un milione di elettori d'Emma. Abruzzo incontro tendenza. Bonaccini lieve vantaggio, vince rispetto all'avversaria. Il presidente dell'Emilia Romagna infatti si è imposto per pochi voti nella nostra regione. Il mio segretario nazionale Schlein però ottiene più delegati. Al voto oltre 20.000 abruzzesi, 134 i seggi. A Bonaccini sono andati 10.319 voti. Schlein 10.187 voti. E veniamo alle province. Bonaccini raccoglie più consensi in quelle di Pescara e Chieti, mentre nelle province dell'Aquila e di Teramo si afferma Schlein. Questo è il commento della senatore, segretario regionale del PD, Michele Fina. Questa volta davvero si è fatta una rivoluzione. L'elezione di Ellis Schlein, la sua vittoria, la sua affermazione anche in Abruzzo, indica la voglia davvero di cambiare nel profondo. E indica anche la presenza nei gazebo e noi speriamo, io spero presto anche tra i nostri iscritti, di migliaia di giovani, di persone che si sono avvicinate per la prima volta o che sono tornate dopo anni di disillusione. Ora c'è bisogno di fare di questo tesoro per avere allo stesso tempo una linea politica chiara, quella che ha dettato Ellis Schlein. Anche la capacità di unire, di mettere insieme Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Paolo Di Micheli e le tante e i tanti che rappresentano un partito che deve rimanere plurale. Questo è importante anche per l'Abruzzo perché ci dà una grande spinta questo congresso per essere, tornare ad essere, essere ancora l'architrave dell'alternativa a Marsilio. Interviene anche la presidente del PD Abruzzo, Manola Di Pasquale. L'Abruzzo aggiunge vuole un PD aperto, inclusivo, unito e in grado di parlare alla società italiana e di offrire un'alternativa credibile e autorevole di governo a Roma, nella regione e nelle città.